rompe il silenzio isabelle interno l'ex fidanzata di denis bergamini il calciatore del cosenza la cui morte sulla statale 106 nei pressi di roseto capospulico e un giallo che si trascina da ben 26 anni la donna scrive agli organi di informazione e ribadendo la sua estranea i fatti che le venivano contestati chiede che si interrompa quella che definisce come una speculazione mediatica sulla sua persona finita in un'inchiesta poi naufragata isabelle interno lamenta lo scarso risalto all'archiviazione della sua posizione pronunciata dal gip di castrovilleri che lo scorso 30 novembre è escluso sulla scorta degli elementi acquisiti nel contesto dell'ultima indagine istruita dalla procura del pollino in forza di una richiesta di riapertura del caso risalente al giugno 2011 che denis bergamini sia stato vittima di un omicidio lo stesso gip ha rilevato quegli elementi che sarebbero stati utilizzati strumentalmente per screditare le dichiarazioni rese dalla stessa isabelle interno da un maresciallo dell'arma e al contempo per ipotizzare ad ogni costo uno scenario delittuoso a Autore dei sorrisi